Giornata di sole sul comunale di Spoleto per la decima giornata del campionato di promozione Girone B che vede incontrarsi lo Spoleto di Mister Raggi oggi in tenuta completamente verde e il Bevagna con maglia bianca con dettagli gialli e blu. Con le riprese di Leonardo Antonelli andiamo a vedere le azioni salienti della partita terminata con un netto 6-0 a favore dello Spoleto. Bastano due giri di orologio allo Spoleto per passare in vantaggio, rimessa laterale di Tomassoni per Leone che mette al centro per Zuppardo che incrocia verso il palo più lontano e realizza il primo gol. Ottavo minuto, sempre Leone, il migliore oggi in campo per lo Spoleto, si districa bene a sinistra e confeziona l'assist per Zuppardo che di poco non riesce ad infilare. Al quattordicesimo minuto si vede il Bevagna con Capaldini che sale, supera la difesa e tira con la palla poi facilmente catturata da Cherubini. Ventitresimo, altra occasione per il Bevagna con Capaldini il cui diagonale dalla sinistra sfila a lato. Al venticinquesimo minuto arriva il secondo gol dello Spoleto, propizia tutto. Tomassoni in area sinistica bene, cola, rimpalla e Leone realizza la rete del 2-0. Al quarantacinquesimo arriva anche il terzo gol per lo Spoleto, un errato disimpegno difensivo di Locci propizia l'azione di Leone che si lancia a rete e realizza il gol del 3-0. Si chiude così il primo tempo. Nella ripresa parte subito bene il Bevagna, al primo minuto c'è uno spunto di Donofrio che propizia l'azione di Console che ben marcato realizza un tiro che finisce di poco a lato. Dopo questa azione iniziale lo Spoleto inizia a dilagare e se al secondo minuto il gol di Cola viene segnalato in evidente posizione di fuorigioco è proprio il puntero Spoletino a non arrendersi. Già al decimo Cola punta a mettere il sigillo di giornata e si districa in mezzo a un nucolo di avversari e scalda i guanti a Catarinelli. Stessa faccenda dopo due minuti al dodicesimo del secondo tempo sempre Cola propizia l'azione offensiva dello Spoleto, mette in mezzo all'area per la rovesciata di Tomassoni che non ferisce. Ma è al tredicesimo che arriva il gol del 4-0. Cola aveva deciso di segnare e in un minuto dal limite destro dell'area beffa il difensore e mostra tutta la sua maestria realizzando il gol del 4-0. Al trentesimo minuto c'è un gran tiro di Tomassoni che arriva vicinissimo al gol. Un minuto dopo sempre Tomassoni dal vertice destro dell'area tira e manda di un niente al lato. Al trentaquattresimo arriva il gol del 5-0. Leone sale e mette in mezzo per Cola che deve solo toccare e infilare il rete per la doppietta personale di giornata. Il gol del 6-0 arriva al trentottesimo minuto del secondo tempo con la difesa bevanata in netta difficoltà e i centravanti Spolitini a dilagare e così Leone realizza la tripletta personale di giornata e il gol del 6-0. Non mancano anche nel finale altre occasioni, in particolare al quarantatresimo con Cola che si riavvicina e manda di un pochissimo fuori e al quarantatquattresimo con un diagonale che colpisce il palo. Al di fuori del 6-0 che mi interessa poco a me perché noi facciamo un altro campionato. Noi il nostro campionato l'abbiamo fatto l'anno scorso vincendo il campionato. Anche se loro hanno preso il titolo, va bene, si sono ritrovati in promozione. E cercano di vincere questo. Ce l'hanno tutte le carte in regola, però a noi non è un problema. Io sono orgoglioso dei ragazzi perché ci hanno messo tutto. I 6 gol sono tanti, anche se ci hanno avuto altre occasioni. Però l'importante è che ho visto i ragazzi che hanno dato il massimo. Chi ha giocato ha dato il massimo. E al di fuori del 6-0 che mi interessa poco sono contento dei ragazzi. Venivamo da due risultati un po' brutti come prestazione. A parte quello di Terni che è stata fatta anche discretamente. C'avevamo un momento così, non dico di appagamento, però di flessione. Oggi la squadra ha dato una grande dimostrazione di qualità, di compattezza, di sacrificio. Sono stati bravi tutti a fare quello che avevamo preparato in settimana. Io ripeto, il campionato è lungo, è difficile e può riservare momenti bui. Nei momenti negativi si vede la squadra, si vede la compattezza della società che ci è stata sempre vicino. Solo con questo potremmo andare avanti perché è impossibile pensare che si vincano tutte le partite 5-6-0 come avevamo fatto all'inizio.